La FC4 rappresenta uno dei migliori esempi di progettazione meccanica e elettronica da parte della Quickwood, dove un attento studio del software e una raffinata progettazione degli elementi meccanici consente ad ogni spazzola di seguire il contorno della sedia da levigare rispettandone le peculiarità della forma. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Quickwood, spazzole e macchine per trattare qualsiasi forma e superficie.